Miss, mia cara Miss, è una di quelle canzoni che scrisse Totò in un periodo felice della sua vita. La felicità che domani sera dalle ore 22 nell'incantevole Piazza Mare di Torrenova coinvolgerà le partecipanti alla selezione dei concorsi nazionali Miss Reginetta Italia e Miss Reginetta Over. Una selezione importante visto che si assegneranno gli ultimi titoli per partecipare alla finale regionale il 2 agosto. In passerella le Miss dai 14 ai 29 anni e le Over dai 30 ai 60 anni divise in tre categorie pronte a dimostrare tutta la loro bellezza e il loro talento. Le iscrizioni sono ancora aperte e gratuite al 339 8254 709. Sarà una serata di puro spettacolo con tantissimi ospiti, la scuola di ballo Tersicoli di Capodorlando, il talentuoso cantante milazzese Davide Patti, vincitore di Sanremo Junior, l'incantevole voce di Antonio Cannistrà e l'ensemble musicale Trio d'Oltremare. La manifestazione è patrocinata al Comune di Torregrotta, inserita in ricco calendario degli eventi estivi che stanno illuminando una caldissima estate tra mare e spettacoli, coordinati brellantemente dal sindaco Salvatore Castrovinci, dalla sua giunta comunale e la Proloco. Miss, mia cara Miss, ti aspettiamo domani sera per sfidare la passerella più ambita d'Italia. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo mafos che imoro per te.